buonanima fa un test dovrebbe essere tutto a posto con ok dovrebbe essere tutto a posto così possiamo iniziare prendo le distanze prendo le distanze benedetto prendo le distanze come se ne è questo coso prendo le distanze prendo le distanze iniziamo a farci la croce del cuore prendo le distanze prendo le distanze benedetto dico io no ho i miei ben pozzati perché andate a prendere altri avete rotto il cazzo ma fatemi vivere tranquillo non ce la faccio più andate a fangulo da qualche altra parte piccola gag piccolo scherzo chiedo scusa twitch non dipende da me sono estensioni io non so come voi avete fatto a trovarli porca putta fatemi stare in pace non faccio un cazzo di male se non fare recensioni prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze bannate a questa persona prendo le distanze bannate jody per favore banno a questi esseri sono ossessionati da me sono ossessionati da me prendo le distanze chiedo scusa twitch possiamo iniziare scusatemi prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze come cazzo si mette il muto prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze dobbiamo fare questo ogni sette minuti ragazzi ditemelo dai perché li togliamo jody famiglia ti posso disturbare un attimo social sto in live prendo le distanze prendo le distanze scusami prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze allora prendo le distanze scusami social allora ho messo i blurb no 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 allora prendo allora scusami ho messo i blurb no 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 i più Se sei in live ti sentono, prendo le distanze, prendo le distanze, prendo le distanze, prendo le distanze, aspetta, prendo le distanze. Io non li chiamo gay perché io parlo in italiano e non in inglese. Controllate una cosa per piacere. Controllate una cosa, prendo le distanze, 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 prendo le distanze.